Vedo che con Falonieri e Letta, Letta Gianni spingono affinché Mediaset dia una mano al SIA referendum, ma d'altro canto questo sono, ci sono sempre stati questi accordi, ma quando mai il Nazareno si è interrotto? Non gli toccano le aziende a Berlusconi, lo salvano dalle intercettazioni, lo salvano da qualche procedimento, il conflitto di interessi è uno schifo quello che hanno fatto, il falso in bilancio era addirittura meglio la legge dei Berlusconi e che cosa viene dato in cambio il supporto delle televisioni commerciali di Mediaset affinché si possano vincere.